Ciao, come ti chiami e da dove vieni? Mi chiamo Santino, vengo da Reggio Calabria. Da quanto conosci il Barbar College? Un paio di annetti. Perché hai scelto di stare con noi? Ho scelto di stare con voi perché prima di tutto è un'occasione per conoscere tanti altri colleghi, di confrontarsi e poi comunque c'è l'occasione di conoscere gente che fa il nostro stesso lavoro da molti anni e lo fa con il cuore appunto, ci mette l'anima. Cosa hai imparato a questo corso? Ho imparato tantissimo, ho imparato sicuramente a dare il massimo ogni giorno all'interno del negozio. A parte le tecniche che comunque si imparano giornalmente, è proprio quella la cosa principale, ti dà ancora più voglia di affrontare la giornata lavorativa. Bene, consiglieresti il corso a dei tuoi colleghi? Assolutamente sì. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.